È funzionante la vasca di espansione di Bettolelle nel comune di Senigallia, progettata per ridurre il rischio idraulico nella vallata del Misa. La verifica dello stato dei lavori è stata compiuta durante un sopralluogo alla presenza dell'assessore regionale alla protezione civile e alla difesa del suolo e della costa, Stefano Aguzzi. Con lui c'erano anche il sindaco di Senigallia, Massimo Livetti, e i tecnici incaricati alla realizzazione dell'opera, attesa da molti anni. Questa è una vasca di espansione che è stata pensata 40 anni fa, è stata ideata 40 anni fa e si è lavorato per 40 anni per poterla realizzare. Grazie alla mia struttura del genio civile della regione Marche siamo riusciti a dipanare queste situazioni. Nel 2021 siamo riusciti ad ottenere tutti i permessi che servivano per attivare i progetti. li abbiamo approvati, li abbiamo finanziati ed nel frattempo ci siamo anche resi conto che il finanziamento di 8 milioni che era disponibile non bastava più per realizzarla tutta così come era stata pensata. Allora, perché avevamo a disposizione 6 milioni di euro. A quel punto abbiamo suddiviso in due parti il progetto, uno principale, che è quello che oggi presentiamo, ed uno che è tuttora in corso di realizzazione in questo momento. Quindi in questa prima parte è stato suddiviso in due perché 6 milioni che avevamo già a disposizione, che in teoria quando è stata pensata diversi anni fa dovevano bastare per tutta, poi tutti questi anni passati non hanno più permesso questa cosa, da 6 milioni sono diventati 8. Noi senza aspettare di trovare gli altri due che non avevamo a disposizione perché ricordiamoci anche che era pre-alluvione questa cosa, quindi non c'erano tutti i soldi messi poi successivamente a disposizione del Ministero, questi sono fondi regionali, abbiamo suddiviso in due il progetto, uno da 6 milioni di euro, 800 mila metri cubi, che è quello che inauguriamo oggi, altri 900 mila euro per altri 200 mila metri cubi che sono in ampliamento in questo momento. Questo è uno dei tanti interventi previsti dall'assetto di progetto del fiume Misa, adottato nel 2016, e porta un contributo significativo alla riduzione del rischio idraulico della vallata, attraverso un meccanismo naturale di deflusso delle acque. Questa area di laminazione permetterà anche di essere molto più tranquilli a Senigallia, che ovviamente è la parte finale, questo è un fiume che ho detto mille volte anomalo perché parte largo e finisce stretto, e su questo noi dovremmo ragionare molto. Al momento non posso che ringraziare, visto che ci hanno sempre ascoltato, per cui ho una grossa aspettativa che questo continui e che oggi è la dimostrazione, si passi dalle parole ai fatti perché, ribadesco, la nostra valle attendeva questi interventi da 40 anni, ci sono state troppe alluvioni, troppi morti e penso che questa sia la risposta più giusta. L'inizio è la risposta più giusta. Grazie.